Aller, chiusato a San Domenico, secondo il treno Ciao Presi Vai Abbiamo dovuto lasciare Bruno e il suo compagno Maurizio Perché problemi tecnici ha la sua iBike Ma il flyon Sì Il flyon Guarda che un po' di pietra ci vuole sempre Da bandello lama Esatto Sì Il canale Il cavicano Sì Ramos Sergio Ramos Sergio Ramos Sì 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 Mi disturba Mi disturba Sì 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 ma c'è qualcosa? ma perché tu sei colto? vai 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 il ritmo è il ritmo della noce steve current ma dove stavo? troppo tosto oh ma secondo me la proprio era invece luca era quello vedi o stanno andando sul trail noi stiamo fuori traccia è molto a sfocco oh facciami è il sentiero secondo me dove siamo passati noi che c'erano le rocce con il metro ma è là? è la, 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 ah qua c'era quel tratto nel bosco bello, ma è questo il sentinio, è tutto sporco, buono cani, questo è bello questo tratto, me l'ho ricordato, questo è molto trentino, molto, molto trentinaggio, ma stiamo andando così, random, io mi ricordo che qua giriamo così via a sinistra, voglio che io registro e gliela mando, voi siete proprio, vedi ci sta pure il giant, qua cadesti, vai Rappi che ti seguo, me lo stai dando, me lo stai dando il sentimento, è rotta, non lo so è rotta, oppa oppa, è rotta, dove vai, dove vai, fermo, perché, sei fermo Rappi, eh ma che lo so, c'è rotta, so faccio morire, Luca, levati, 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 a fare la strada, Oh, oh, ferma, 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 ho perso il coso, che ho perso? Il computer, o era? Si, Bello, mi ricordo un po' di Vesuvio, è un po' vesuvieggiante, Beffa, ci sei? Che cazzo era, eh? Ah, bello questo, ma sono tutte e due belle, eh? Si, si, no, loro sono andati qua, Oh, Sì, non è vero, non è vero